Guardando così un po' sul Facebook ho trovato la pubblicità di Dottor Palmas. Mi ha incuriosito un po', un po' di più diciamo. Non ho pensato due volte e subito ho deciso perché ho visto che tutti parlavano bene, ho visto che anche Dottor Palmas era molto preparato. Ho avuto tanta fiducia, assolutamente sì. Sono stata contattata dal personale, ho preso il biglietto a ieri e a marzo quest'anno sono venuta a Chisinau. E sono stata molto bene accolta, ho fatto tutti gli accertamenti, analisi di sangue, come è stato chiesto tutto. Poi ho fatto, diciamo, il primo step è andato benissimo. Dopo sei mesi ho dovuto ritornare, certo. I dottori, i medici molto gentili, molto professionali. Io non ho avuto tanti dolori, assolutamente. Veramente ho preso solo una tacchiprina, non una sera, non resta assolutamente niente. È stato tutto, diciamo, è andato molto bene. Il sorriso è molto importante, anche per una donna, anche per un uomo. Anche per stare bene con te stesso, in compagnia delle altre persone, familiari, al lavoro. È molto importante. Per una donna, diciamo, ti dà fiducia in se stessa, ti dà proprio felicità, diciamo. Ti senti che sei rinata. Voglio ringraziare al tutor staff della clinica di S.A. Rabilitazione di Chisinau. A tutti, perché sono tutti veramente delle persone eccezionali, di grandi umanità, grandi professionalità. Sono veramente, per me, numero uno. Venite con tutto il cuore, perché qua siete trattati molto, molto bene.